Sgominata un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti di mezzi all'interno di aziende agricole delle province di Bari e Foggia, la merce veniva ricettata da un pregiudicato di Cerignola. Sono una decina le persone arrestate nel corso dell'operazione compiuta dalla squadra mobile della questura di Foggia e lo SCO di Roma. Gli arrestati dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati predatori all'interno di aziende agricole. Tutta la merce rubata, e cioè autocarri, carrelli elevatori, carburante, attrezzi agricoli, secondo le indagini, veniva poi ricettata presso un pregiudicato di Cerignola. Il valore della merce recuperata è di oltre 100.000 euro. Alla cattura hanno partecipato anche agenti della squadra mobile di Bari e del reparto prevenzione crimine.